Allora, questa cosa dei politici furbetti del bonus da 600 euro, oggettivamente è sfuggita di mano. Al di là dei tempi sospetti, l'avevamo già detto nei giorni scorsi, vi ricordo che sono gli otto nomi fino ad adesso emersi. Mattiussi, Forza Italia del Friulenzio Giulia, i sei della Lega, uno del Partito Democratico, quindi Barbisan, Montagnoli, Forcolin per il Veneto. E non saranno ricandidati, lo ha confermato Zaia. Poi c'è Pugioni, commerciante ed è consiglio regionale della Liguria. Leone della Lega, commerciante ed è in Piemonte. Ancora un leghista, Gagliasso, sempre regione Piemonte. Un social manager del PD, consiglio regionale in Piemonte. Poi c'è il caso, adesso vi ritrovo il nome, di un sindaco, un sindaco che è del Partito Democratico ed è sindaco di un comune di 4.000 abitanti. Ha una partita IVA, chiaramente marzo, aprile e maggio non ha guadagnato un euro e pur avendo uno stipendio da sindaco, definiamolo così, di qualche centinaio di euro, sarà costretto a rinunciare a questo bonus per non finire nel cardenone di questi novelli in Overspierre che stanno cercando praticamente di infamare tutta questa parte della politica. Giusto, perché abbiamo detto più volte che è da miserabili comunque con uno stipendio notevole come quello del consiglio regionale o del parlamentare, di cui non sappiamo ancora nulla, parlamentari non sappiamo nulla, andare a prendere altri soldi nel momento di difficoltà. Ma il problema è che non c'era un tetto, l'abbiamo già detto, è inutile che la vice ministra Castelli dica ancora che non c'era tempo di mettere addirittura un tetto a tutto questo. Ma allora io vorrei ricordare a tutte queste inchieste e anche alla politica stessa, dove è l'indignazione per i 353 notai che in tutta Italia hanno fatto richiesta del bonus da 600 euro? Dove sono per quanto riguarda i 353 notai, per fare un esempio, che hanno fatto richiesta del bonus? O allora, che ne so, altri commercialisti che guadagnano magari centinaia di migliaia di euro anche per loro? Bisogna indignarsi se hanno fatto richiesta di 600 euro in quei mesi o altri professionisti di questo livello? Ecco, sono queste le domande che a questo punto ci dobbiamo fare. Pur condannando questo atteggiamento della politica, è risibile quello che riguarda un sindaco di una città di 4.000 abitanti che ora si debba vergognare, appunto il suo nome è ovunque. E non ci indignavo allora per tutti gli altri professionisti a questo punto che benissimo potevano cavarsela perché guadagnano centinaia di migliaia di euro ogni anno e anche loro hanno attinto risorse pubbliche.